Oltre l'uno di molti, bene ad essere nella filosofia di Platone. Perché un titolo così provocatorio? Perché in questo piccolo libro ho cercato di intraprendere il tentativo, forse disperato, di liberare Platone dalle pastoie delle interpretazioni più o meno correnti della sua filosofia del principio, interpretazioni che vanno univocamente o in una direzione monistica o in una direzione dualistica, oltre l'uno e di molti, cioè oltre il monismo e il dualismo. Perché, secondo me, come cerco di mostrare in questo libretto, la filosofia del principio di Platone non è riducibile né ad un monismo né ad un dualismo? Perché è assolutamente radicalmente incentrata sul principio come bene. E qual è la caratteristica fondamentale del bene per Platone? Cosa che cerco di mostrare nella mia trattazione. Il bene è essenzialmente impulso all'autocomunicarsi, al produrre un'immagine di sé. Quindi il bene è quell'uno assoluto che immediatamente in sé pone, potremmo dire, il proprio opposto, la propria negazione. Quindi il bene, che come cerco di mostrare per Platone, è essenzialmente automanifestante, sì, autocomunicativo o icono poetico produttore di immagini di sé, il bene è in maniera assolutamente principiale tanto affermazione assoluta di sé quanto negazione di sé, ovvero posizione di un altro che, proprio a partire dall'impulso automanifestativo del bene, può dare luogo ad un mondo, ad un cosmo radicalmente autonomo rispetto al principio. Cosa significa questo? Significa che nel bene noi abbiamo fondati, anche per quanto possiamo ricavare dalle testimonianze sull'insegnamento di Platone, tanto il principio supremo dell'unità, l'uno, quanto il principio supremo della molteplicità, quello che noi nelle testimonianze sull'insegnamento orale di Platone vediamo indicato come dualità indeterminata. Non si tratta quindi, riguardo a Platone, di una filosofia del principio in cui l'uno è gerarchicamente superiore rispetto al principio del molteplice, alla dualità indeterminata, ma si tratta di una filosofia del principio che tiene insieme nel bene tanto l'uno assoluto quanto il non uno assoluto, il principio della molteplicità. Perché una filosofia del principio interpretata a partire dal bene ci libera dai condizionamenti di un'interpretazione univocamente monistica o dualistica di Platone? perché noi in questa filosofia del principio non abbiamo più a che fare con un principio che alla fine riassorbe il mondo in sé, ma proprio perché il principio è fondamento tanto dell'uno quanto dei molti, proprio perché è bene, questo principio pone in sé già una polarità fra assoluto e manifestazione, fra idea e icona, che non dà luogo prima o poi alla sparizione del polo manifestativo nel polo dell'assoluto, ma contribuisce a dare al cosmo e anche alla filosofia, al pensiero che riguarda il cosmo, un fondamento che ha strettamente a che fare con il principio, un fondamento nel principio, per cui il cosmo rimane sempre autonomo rispetto all'assoluto e pur ricevendo l'esistenza dell'assoluto non arriverà mai ad un momento in cui debba riannullarsi nelle braccia o nel grembo dell'assoluto. Grazie a tutti